Il Timone è la prima comunità residenziale terapeutica in Liguria, è stata inaugurata nel quartiere di San Fruttuoso a Genova e si estende su un'area di circa 400 metri quadrati destinati ad ospitare sino a 15 giovani con problematiche legate alla dipendenza. La nuova struttura risponde ad un'esigenza diffusa che la pandemia ha accentuato. Nella nostra regione si è riscontrato un sempre più marcato aumento nell'uso e abuso di sostanze dannose alla salute. Parliamo di attrazione dall'uso di sostanze che parte da 11 anni, si dice che nelle medie almeno un quarto dei ragazzi ebbero fatto uso di sostanze. Il fenomeno per essere affrontato con efficienza, con la giusta sensibilità richiedeva un intervento specifico preparato proprio per i giovani. I ragazzi vengono presi in cura da 13 operatori, un responsabile di struttura, uno psichiatra, un infermiere, uno psicologo, sette educatori professionali, assistenti sociali, terapisti della riabilitazione psichiatrica e due os. La comunità terapeutica è una parte dell'intervento nei confronti delle dipendenze perché c'è un'attività preventiva, anche un attività educativo e un percorso di reinserimento sociale che è legato poi alla scuola e alle prospettive di lavoro. Il percorso terapeutico, educativo e sociale si basa su un percorso comunitario di breve e media durata, da due mesi ad un anno, con un lavoro sulla persona, nella sua interezza, sul comportamento e sulla responsabilità, incentrato sul metodo Progetto Uomo che contraddistingue tutti gli interventi del CEIS Genova e dei vari CEIS in tutta Italia. I pilastri del Progetto Uomo sono tre. Il primo di essere volontario, il secondo di essere a tempo e il terzo di essere in contesto sociale. Tutto per riprendersi se stessi.